Ben ritrovati a tutti, come di consueto, un ringraziamento a tutti coloro che ci seguono da tempo, clienti fidelizzati, anche tutti i clienti nuovi che abbiamo acquisito tramite appunto la televisione e tramite gli altri canali di Instagram e quant'altro. Siamo qui, come sempre, dalla sede di Castellanza in Via Marconi 23 con Mirko. Buonasera a tutti e ciao. Siamo entusiasti dell'andamento del mercato, dell'entusiasmo comunque che abbiamo riscontrato e di quanto abbiamo lavorato in questi mesi. Assolutamente, diciamo che grazie anche, il lavoro è sempre andato molto bene, non ci siamo mai lamentati assolutamente, comunque anche l'apporto della televisione, di TikTok, di Instagram, dei vari social, di Crona 24, il lavoro si è molto ampliato, molto evidente anche la costanza, la serietà ci ha dato ragione e abbiamo avuto grossi risultati decisamente su tutto quello che riguarda orologi, gioielli, i nostri laboratori di orologeria, di oreficeria, il reparto appunto dove vendiamo anche i bracciali tennis, i puntoruce, tutto ciò che è alta gioielleria e oreficeria, abbiamo un po' di tutto, tra pochi giorni ci saranno anche le crisi delle comunioni, abbiamo un alto assortimento e vasto assortimento di anche appunto gadget, regali per i bambini che fanno le crisi delle comunioni, vi aspettiamo nella nostra sede, come diceva Benni di Via Marconi 23, Castellanze, vi trovate ampia scelta di tutto. Questo è un 16-710 mai indossato, garanzia card, la particolare di quest'oggio è che ha la garanzia card 6-710 ma già con la scritta che monta sui nuovi Pepsi, quindi BLRO, quindi ghiera blu-rossa, è uno stick deal, quindi ha la scritta del GMT Master 2 con le due barrettine, quindi altra cosa la trova, quindi ha garanzia rara, stick deal e carico 3186, quindi abbiamo il meglio del meglio che si può trovare. Noi siamo fuori 25 miliardi ma sono fuori anche più alti, poi se avete qui 23-23 e mezzo vediamo di darlo, è mai indossato. E poi ci sono il fratello di questi qui, abbiamo anche oggi con la nostra garanzia, la scatola Rol e siamo intorno ai 10 mili euro circa, quindi prendete un prodotto ancora a cifre abbordabile, abbiamo più di uno in casa, abbiamo i Coke, abbiamo i Pepsi, abbiamo parecchi modelli di sportivi e poi se vogliamo continuare con qualche sportivo, abbiamo il famoso Kermit, altro oggio che è ad oggi in produzione, vediamo gli Hulk, per esempio non abbiamo più neanche uno in casa, sono volate le stelle, noi stiamo, abbiamo venduti tutti incredibilmente, tutti, questo oggi viaggiano mai intorno ai 17 mila euro. Questo è stato confermato stamattina ma ce n'è in arrivo un altro. Ah questo è venduto, ok, comunque ne abbiamo in arrivo un altro, non c'è problema e poi sempre come sportivi sub abbiamo questo che è il quadrante jeans, quadrante molto particolare, ha avuto questa virazione naturale, è un full set, è tropicalizzato, questo che ho appunto molto chiaro che lo chiamano jeans, è un 1.190, molto raro da trovare anche questo, siamo sui 20.000 euro, questo è un altro Coke e questo forse è quello senza corredo originale, senza corredo originale, super prezzo, naturalmente rilasciamo la garanzia del negozio, ottimo, veramente ottimo prezzo. Sì, siamo intorno ai 10-11 mila euro ma poi lo vediamo quando siete qua. E poi abbiamo una serie abbastanza importante di Sunmarine acciaio oro, tutti full set, abbiamo 5-6 pezzi in casa, a cifre ottime perché fate conto che con sub ceramica acciaio oro blu, a me costa quasi 16 mila di listino, vedete un vecchio a serie 5 cifre che sono molto apprezzati dai 12-13 mila euro. In questo momento i 5 cifre sono molto richiesti, questo perché a parte al di là della cifra contenuta, diciamo che questo prodotto a parer mio si indirizza ad un cliente che non è lo speculatore nel breve ma visto che le quotazioni ormai si sono stabilizzate, questi sono orologi da un investitore che lo prende, lo tiene e comunque sono orologi che tendenzialmente aumentano di quotazione di un 10% all'anno, di conseguenza sono super appetibili per chi non vuole un oggetto da non rivendere nel brevissimo termine, spendere una cifra adeguata e avere comunque un oggetto stabile nel tempo. Sì, poi ricordiamoci comunque 5 cifre a livello mondiale, quindi parliamo del commercio internazionale, sono molto apprezzati anche in Cina, in Europa tedeschi, francesi, spagnoli comprono moltissime 5 cifre, quindi non facciamoci sorpassare anche in questo da loro e teniamoci nei nuovi stretti d'Italia. A tal proposito abbiamo un bellissimo sultano, un sultan in oro giallo, orologio mai lucidato, full set in condizioni eccellenti, non l'abbiamo mai lucidato per questa ragione, anche orologio è veramente molto molto bello. è un quadrante raro, come tutti i quadranti pietre preziosi di casa Rolex, questo ha diamanti e zaffiri, è un 1989 e ve lo diamo full set a 35 mila euro, quindi un orologio veramente con un prezzo incredibile visto la rarità del prodotto. Sì, ne avevamo già parlato anche nella scorsa puntata, sicuramente in questo momento storico sono molto in voga quegli oggetti dove… E hanno prezzi ancora comprabili. Questo anche lui fuori produzione, il famoso Puffo, Puffo perché la ghiera in ceramica blu è in quadrante blu, non lo fanno più, lo fanno uguale ma con il quadrante nero e la ghiera blu, semi a metallo nobili, quindi in oro bianco, lo vendiamo sotto il listino a 40 mila euro. Oggi è in condizioni eccellenti, è un 2009 ma è potente rimasto spesso in casaforte perché è veramente molto magliato, non è stato usato moltissimo in questo loggio qui. E poi tornando ai metalli normali, quindi l'acciaio, un SUV senza data, questa è la vecchia referenza, abbiamo poi diversi sportivi, i 36 mm di casa Rolex e poi bellissimo secondo me un 39 mm dell'Explorer 1, non più in produzione, adesso fanno 40 mm, è un loggio particolare che pochi conoscono, ha una cifra ragionevole, un 2010 full set e siamo a 9 mila euro, che direi è un prezzo veramente adeguato per un prodotto del genere, per esempio personalmente io preferisco un Explorer 1 pulito 39, che è un Dayjust, non ha la data, chi ha bisogno della data magari preferisce il Dayjust, però questa è una bellissima linea. Il vantaggio di questa variante qui, comunque del 39 mm, che viene in un loggio classico ma con la chiusura dell'orloggio sportivo, quindi con la sicurezza, con la triplo, cosa che i Dayjust chiaramente non hanno. Quindi adesso, già che mi sono agganciato ai Dayjust, vedrei… Sì, facciamo una bella carrellata di varie referenze e soprattutto di varie misure che sono adeguati sia per la donna, cioè per la donna e per l'uomo, ovviamente le misure più grandi. Partiamo con Dayjust 31 mm in varie configurazioni, dal bracciale Jubilè al bracciale Oyster, Quadrante Brilli, Ghiera Zigrinate in oro bianco, ne abbiamo, diciamo, in tutte le sales. Abbiamo parecchie, sì, questo è il nuovo 2023 e questa è una configurazione che i negozi fa fatica a trovare, perché comunque quei diamanti sono super cercati anche in Oriente, quindi loro comprano praticamente tutto, l'anno rimane veramente poco. Questo è un loggio intorno ai 14 mila Euro, abbiamo un po' di tutto, questo è nuovo, questo è nuovo anche lui, è un senzadatta, un orologio da 7500 Euro, abbiamo anche qualcosa a scatola con la nostra garanzia, no, questo è tutto, fosse 6500 Euro, prezzaggio. Oltretutto, oltretutto, in passato, l'orologio da donna comunque era visto come una spesa, però non fa collezione. In questo momento, vista l'eccezionale richiesta, è cambiata la situazione, cioè anche l'orologio da donna, nel momento in cui qualcuno volesse rivenderlo, mantiene il prezzo, cresce, è cambiata completamente la situazione, di conseguenza sono equiparabili a quelli da uomo ormai. Passiamo dai 36 mm, sia dei Just e anche abbiamo degli Oyster Perpetual colorati, che ovviamente sono richiestissimi. Sì, questo è un blu bellissimo, questa configurazione qui, ghiero bianco, numero bianco, ma ha questa particolarità della vecchia chiusura. Super Giubile. Super Giubile, che è molto ambito, perché adesso li fanno solo con la scatoletta, quindi molto richiesto, un orologio veramente bello, una cifra, siamo fuori a 10.000 Euro, ed è un orologio molto molto bello, molto ambito, sia da uomo che da donna. Questo è un altro 36 mm, in un'altra configurazione, adesso non ci stiamo a perdere nelle referenze perché sono parecchie, poi magari vi confondete, comunque tenete a mente 36 mm, che è quello principalmente richiesto dalle donne, ma anche qualche uomo con un polso non eccessivo lo gradisce, in questo caso abbiamo per esempio la ghiera d'oro rosa non zigrinata in accostamento con il bracciale Giubile. Questi per me non li vendiamo ormai, forse sotto il listino, 11.000 Euro, è un prezzo decisamente molto buono, full set. Proseguiamo, facciamo vedere adesso un 36 mm colorato, forse l'ultimo che c'è rimasto in stock, questo è un corallo. Se abbiamo arrivo un Tiffany 36, nuovissimo, tutti fuori produzione ormai. Anche qui vale lo stesso discorso, è una misura che tendenzialmente usa il pubblico femminile, però tanti nostri clienti uomini hanno acquistato il 36 piuttosto che il 41. Questo è un 2022 mai indossato. Per richiamare il 41, allora facciamo vedere magari un po' di 41 mm in varie configurazioni. Sì, questo è particolarissimo perché è un 41 mm, quando nasceva 40 antracite, non chiedetemi come mai, è virato in questo colore sfumato cioccolato, bellissimo, oggi siamo intorno ai 10.500 Euro. Questo invece è un ghiero bianco, tutti full set, 2019 e siamo a 12.000 Euro. Abbiamo questo che purtroppo il cliente ha presso la garanzia, ma abbiamo noi la nostra garanzia, la scatola, prezzone 11.000 Euro. E abbiamo questo che è particolare fuori produzione da diverso tempo, è un 40 erodium, con quei numeri arabi violaci e siamo a 9.900 Euro, quindi un full set è un ottimo prezzo. Abbiamo un laboratorio qualificato sia di orologi che di gioielleria, abbiamo l'incassatore interno, volete fare qualsiasi cosa, produzione, valutare una pietra, farla incassare, siamo a vostra disposizione. Via Marconi 23, Castellanza, vi aspettiamo. Grazie a tutti. A presto. Ciao.